E Villeneuve ha percorso quasi due chilometri, adesso invece Zonta è inquarrato, poi Button ha percorso due chilometri e ha detto scherzando poi ai giornalisti in box mi stavo preparando per la maratona di Monte Carlo che si corre nel mese di novembre Falto scusa Ivan, perché quando un pilota rimane fermo lungo la pista corre col casco in testa? Non è una tortura mostruosa No no, c'è più agilità ovviamente a correre con il casco in testa che non averlo ovviamente